Anche il Comune di Atessa ha aderito all'iniziativa governativa della rottamazione delle cartelle esattoriali e il Vice Sindaco Enzo Pellegrini ci spiega le modalità a beneficio anche degli utenti e dei contribuenti del nostro Comune. Come avverrà ad Atessa la rottamazione? Sì, abbiamo aderito a questa facoltà che il Governo ci ha dato con il nostro concessionario della riscossione che è Soget e quindi tutti i contribuenti che hanno ricevuto fino al 31 dicembre del 2016 delle ingiunzioni di pagamento inerenti tasse e tributi oltre a sanzioni amministrative del Codice della Strada dal Comune di Atessa hanno facoltà di fare domanda entro il 2 di maggio presso sempre il concessionario che è Soget, come dicevo prima e a loro verrà riconosciuta la cosiddetta rottamazione di queste cartelle che consiste nel dettaglio che il contribuente sarà tenuto a pagare il solo costo del tributo che doveva quando c'è stata la scadenza e quindi verranno eliminate tutte le sanzioni che gli erano state applicate con la notifica dell'ingiunzione dell'atto di pagamento. Ovviamente oltre a questo bonus che viene dato al contribuente è prevista anche una rateizzazione in quattro rate massimo, l'ultima della quale la scadenza massima è il settembre del 2018 entro la quale appunto il contribuente deve regolarizzare la sua posizione. Questa è una facoltà che viene data ai contribuenti che non hanno potuto o che per qualsiasi motivo non hanno adempiuto al loro dovere verso il fisco in generale e quindi è un'opportunità che viene concessa a loro per risolvere una volta per tutte queste pendenze. Come dicevo prima la domanda deve essere inoltrata entro il 2 di maggio. Negli ulteriori 30 giorni al contribuente verrà trasmessa l'esito della domanda con l'accoglimento oppure no della domanda stessa con il piano di rateizzazione. Quindi credo che sia veramente un'occasione che il contribuente ha per mettersi a posto. Il momento di crisi che si è attraversato molte volte purtroppo alcuni contribuenti non riescono a rispettare le scadenze dovute. Quindi io credo che sia un atto doveroso che l'amministrazione ha voluto fare verso questi cittadini.